Creare un coordinamento tra le città dell'agro nocerino sarnese coinvolte nelle universiadi in programma la prossima estate in Campania. E' l'idea dell'Agenzia regionale che sta lavorando affinché tutto sia pronto per il prossimo 3 luglio, giorno in cui è prevista la cerimonia di inaugurazione. L'idea è stata illustrata ieri da Bruno Iovino che sta collaborando al gruppo di lavoro dell'Agenzia. L'idea è che Nocera, Pagani e Sarno uniscano le forze per superare eventuali difficoltà organizzative. In particolare l'Agenzia vorrebbe affidare alle amministrazioni comunali l'organizzazione che faranno da contorno agli eventi sportivi per le nazioni che saranno ospitate sul territorio. La manifestazione sportiva ormai la sappiamo, ci sarà, verranno X, Y, quindi il problema è che non deve essere fino a se stessa. Cioè non è che la partita inizia alle 6, finisce la 20, arriva e dice grazie. Invece noi dobbiamo essere bravi sul territorio, e parlo come Campano, a Cava, a Pagano Cera, a Pagani, a Sarno, di fare delle manifestazioni, di mettere in evidenza la nostra cultura, la nostra decisione, coinvolgendo tutti. Devono essere loro a mettere a punto col volontariato, con la scuola, con le associazioni, tutto ciò che è possibile che possa dare risalto alla manifestazione sportiva da una parte, ma anche al territorio. Su mille qualcuno ci può anche ritornare, cioè su 10.000, mille possono anche tornarci. Allora dobbiamo essere bravi, cioè questo è l'obiettivo nostro. Intanto un altro problema, forse inaspettato, è il reclutamento dei volontari. A poco più di 100 giorni servono 5.600 volontari che si mettono a disposizione per la macchina delle universiadi, ma soltanto poco più di 1.000 si sono registrati al portale dei giochi napoletani, che dovranno essere tutti contattati, incontrati, selezionati e soprattutto istruiti verso i rispettivi compiti. È una delle grandi criticità delle universiadi napoletane, assieme alla logistica e dalla promozione, per la quale serve una decisa accelerata. Ma già si sta pensando anche al dopo, quando si spegneranno i riflettori sulle gare. C'è la preoccupazione che i lavori di adeguamento e di ristrutturazione degli impianti finiscano nell'oblio a causa della mancata manutenzione. Non è un mistero, infatti, che spesso le strutture sportive pubbliche non vengano curate nel migliore dei modi. A Nocera, intanto, i lavori allo Stadio San Francesco proseguono regolarmente, in particolare l'impianto di irrigazione e il rifacimento del manto di gioco. L'unica situazione da verificare riguarda l'impianto di illuminazione dello stadio. Secondo i parametri imposti dall'organizzazione, la potenza di illuminazione deve essere più elevata. Nessun problema anche al vicino palazzetto dello sport. A Pagani, invece, sono in corso i lavori per la copertura della tribuna dello stadio Marcello Torre.